Ciao, sono ancora io, Bella. Ricordi ancora la mia complicata storia d'amore con Ed che si era rivelato essere il figlio del mio capo? Grazie a Dio scoprì quanto fosse un idiota imbroglione e mi liberai da quella relazione. Ma poi ha cercato alla grande di riconquistarmi. I fiori e i regali dimostravano che mi amava ancora, giusto? Così ho deciso che gli avrei dato un'altra possibilità, ma prima che potessi dirglielo l'ho sentito parlare con Ellie. Era chiaro dalla loro conversazione che voleva tornare con me solo per nascondere il fatto che stava ancora con Diane. Anche Jim li sentì parlare, mi portò nella stanza e li affrontò dicendogli. Voi due, non so che cosa succede ma io proteggerò Bella. Non osate ferirla, altrimenti dovrete vedervela con me. Sentendolo dire questo lo guardai con le lacrime agli occhi. Ed e Ellie erano le peggiori persone, ma per fortuna mia Jim era il migliore. Ero così vulnerabile, ma con le sue parole gentili sentivo che non ero sola almeno. Era come un fratellone che mi faceva sentire al sicuro. Poi mi condusse fuori dicendo... Al diavolo questa gente terribile, andiamocene da qui Belle. Ero allibita a causa dello shock. L'ho seguito, mi ha portato sul tetto dell'edificio ed è stato bello respirare aria fresca senza nessuno che mi fissasse. Ci siamo seduti e mi ha detto di calmarmi un po', di non preoccuparmi del report da dare nel pomeriggio perché poteva aspettare. Mi guardava con occhi così premurosi e ha persino messo la mano sulla mia dicendo... E anche se oggi hai voglia di congettarti, va bene. Ehm, io davvero... Era carino, ma questo mi ha fatto sentire un peso. Quindi l'ho interrotto. Jim, grazie mille. Se non fosse stato per te, sono sicura che sarei svenuta davanti a loro. E grazie per essere così comprensivo, ma sei sempre il mio capo e io una dipendente. Non lasciamo che i miei problemi influiscano sul lavoro. E Jim, per favore... Provo a interrompermi con... Bella, ascolta! Ma bella! Ma ho continuato. Ti sono davvero grata, ma per favore, la prossima volta non devi farlo, specialmente in ufficio, perché darà agli altri qualcos'altro di cui parlare. Sai come amano già spettegolare su di me. Continuava a fissare per terra e non ha detto nient'altro. Mi sforzai di sorridere e asciugai le lacrime. Starò bene. Ho solo bisogno di qualche minuto da sola adesso. Poi finirò il report. Non preoccuparti, capo. Mi guardò e sospirò e alzandosi mi diede una pacca sulla spalla. Ok, grande. Voglio solo che tu sappia che ti ho sempre stimata. Farò di tutto per aiutarti a dimenticare quel cretino, se vuoi. Sorrise e se ne andò. Rimasi lì da sola per un po'. Non so se fosse la forte brezza che mi faceva ancora lacrimare o se avevo solo raggiunto l'apice del dolore. Ora sapevo che la storia tra Ed e Diane non era solo un errore. Davvero non mi amava più. E in più, chiaramente non gli importava nulla di me, altrimenti non sarebbe stato così senza cuore per usarmi per se stesso. Poi ho provato a mettere da parte il dolore e l'angoscia e a concentrarmi sul lavoro. Ma era dura. Sapevo che i miei colleghi sussurravano cose cattive su di me. Erano così tante le volte in cui andavo a farmi un caffè o entravo in bagno e loro si zittivano e ridacchiavano verso di me. Non riuscivo più a concentrarmi su nulla e anche per il più semplice dei lavori ci mettevo il triplo del tempo. Sono arrivata al punto in cui pensai di entrare nell'ufficio di gym e di licenziarmi. Avevo già la email di dimissioni tra le bozze. Amo il mio lavoro, ma le persone qui sono così tossiche e mi sentivo troppo soffocata. La carriera è importante, ma lo è anche il mio orgoglio. Ora stare in questo posto negativo non mi faceva alcun bene e sapere che Ed era così vicino, beh, rendeva la situazione ancora più difficile. Parlando di Ed, ovvio, i fiori e i regali non sono più arrivati. Non aveva provato a contattarmi da quando li avevo sentiti, il che diceva davvero tutto. Facevo di tutto per evitarlo. Una volta, in panico, vedendolo in corridoio, mi nascosi persino dietro la porta del bagno degli uomini, il che allucinò sia me e sia i ragazzi dentro. Al che ho pensato tra me e me. Ehi, cosa sto facendo? Perché mi comporto da codarda? Mi resi conto che non avevo nulla da vergognarmi. Ed mi aveva trattato male, doveva essere lui a nascondersi, non io. Ho capito subito che non avrei dovuto scappare dal lavoro che amavo e in cui ero brava, a causa di un uomo troppo codardo per essere onesto con me. Mi sarei tenuta al lavoro dei miei sogni, al diavolo Ed, se non altro dovevo restare lì e mostrargli che cosa si è perso. In realtà, dopo quell'inaspettato momento illuminante nei bagni maschili, mi sentii meglio e pronta ad andare avanti. Ora potevo passare davanti a Ed a testa alta. Ma sapete cosa? Quando lo incrociavo, sentivo ancora il mio cuore soffrire. Ah, perché succedeva ancora? Per fortuna c'era Jim intorno a tirarmi su, e anche il suo fratellino John, che iniziò a lavorare in azienda come stagista nell'area gestione progetti di Ed ed Ellie. Fin dal suo primo giorno mi impressionò entrando nella stanza con un sorriso così luminoso e mi ha corso incontro salutando tutti, facendomi anche i complimenti per un progetto su cui stavo lavorando. Non sapevo che fosse il fratello di Jim in quel momento, ma sentivo già di poter fare amicizia con lui. Il nostro ufficio aveva bisogno di questa energia positiva. È un tipo divertente, raccontava sempre barzellette e mi mandava meme. Presto Jim, John e io ci siamo avvicinati e pranzavamo insieme quasi tutti i giorni. John era cotto di Ellie, cioè non lo biasimo, perché è bellissima. Le mandò un caffè con una nota civettuola attaccata e lei prese il caffè strappando la nota e attaccandola sulla fronte di John dicendo, questo non è ciò che dovresti dire al tuo capo. Poi se ne andò. Ai! Il poveretto tenne il broncio tutto il giorno continuando a brontolare che le donne erano difficili. Poi Jim si infastidì e disse, non è giusto quello che ha detto Ellie? Dovresti smetterla, non è davvero quella appropriata per te con cui socializzare. Jim aveva ragione, non solo lei era il suo capo, ma uscire con una collega avrebbe solo causato gossip e drammi. E fidati di me, sapevo tutto di questo. Ma John era ostinato, quindi non si arrendeva. Continuava a mostrarle che ci teneva a lei. Una volta le regalò una scatola di cioccolatini a forma di cuore. Lei alzò gli occhi al cielo e gli diede tutti il resto dell'ufficio. Ed se ne è accorto e l'ha scoperto e tutti potevano vedere che non era contento di questo, cioè lei è sua sorella dopo tutto. Quindi lanciava sempre a John occhiatacce e gli faceva fare i lavori più noiosi. Una volta a pranzo John era infastidito perché Ed gli aveva dato un sacco di lavoro da fare per il weekend. Così mi ha detto, Oddio Bella, non capisco cosa tu abbia mai visto in Ed, ma grazie a Dio hai chiuso con lui ora, ti meriti molto di meglio. Poi accarezzò Jim mentre sorseggiava il suo caffè, facendolo quasi soffocare. Poi disse, vedi, guarda il nostro Jim, è gentile, è bello, proprio di fronte a te. Cosa stai aspettando? Jim lo guardò rapido e poi mi sorrise scherzando. Scusa per il mio stupido fratellino. Rida chi hai, questi due mi avevano davvero aiutato nei brutti momenti ed ero così grata di averli entrambi intorno. Ma le cose stavano per cambiare, dato che Jim era stato assegnato per un viaggio di un mese. Non nego che ero un po' preoccupata di lavorare senza di lui. Di colpo mi sentì nervosa e un po' vuota pensando al lungo mese davanti. Almeno c'era John, mi avrebbe tenuto sana di mente. Speravo che Ed non mi causasse problemi, perché trattare con loro senza l'aiuto di Jim era complicato. La notte prima del volo di Jim abbiamo cenato noi tre e John ha continuato a spingere Jim a riportarmi a casa. Andando verso casa scherzavo su come mi sentissi nervosa che sarebbe stato assente per un po'. Sembrava tutto serio e non rispose nulla, come se stesse pensando a qualcosa. Dovevo chiarire le cose, così dissi, ehi non preoccuparti, scherzo solo. Dai, sorridi, non vedrò questo sorriso per un altro mese, giusto? Mi rivolse uno sguardo dolce e disse, tornerò presto, aspettami. Arrivati a casa mia gli ho augurato buon viaggio, lui ha salutato con la mano ed è andato via. Ma mentre ero sul portico frugando nella borsa per trovare le chiavi ho sentito di colpo una mano sulla spalla. Spaventata mi sono voltata, ho visto Jim palpettavo. Jim, perché? Mi interruppe. Non dire niente, ascoltami prima. Bella, io, io ti amo. Ciao a tutti. Grazie a tutti